Cosa c'è di più forte del cuore umano che si schianta di continuo e ancora vive? Nel bel mezzo dell'odio ho trovato che c'era dentro di me un invincibile amore. Nel bel mezzo delle lacrime ho trovato che c'era dentro di me un invincibile sorriso. Nel bel mezzo del caos ho trovato che c'era dentro di me un invincibile calma. Nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un invincibile estate. E' ciò che mi rende felice perché afferma che non importa quanto duramente il mondo vada contro di me. In me c'è qualcosa di più forte, qualcosa di migliore che mi spinge subito indietro.